Più che tenere banco, come dicevi bene, sui giornali, tiene banco lungo tutte le vie della nostra città che sono cariche di cumuli di rifiuti che cominciano a non venire smaltiti in maniera corretta proprio perché da settimana ormai la discarica sembra essere divenuta collasso. Malgrado il sindaco Orlando ancora una volta cerchi di buttarla sul tema del complotto e si rivolge facendo assolutamente bene alla commissione antimafia bisogna però trovare delle soluzioni concrete. Il sindaco che è sindaco di questa città, ricordiamolo da ben 40 anni, che ha costruito il sistema della discarica di Bello Lampo che ha costruito l'AMIA, che ha costruito la RAP, non può semplicemente lavarsene le mani e rimpallare ad altri soggetti responsabili. è arrivato il momento che si assuma le sue responsabilità e che dia delle risposte concrete all'intera collettività perché se ancora una volta, nonostante i presunti accordi che erano stati trovati su assi regionali i rifiuti tornano nuovamente indietro da altre discariche, evidentemente forse l'ARPA nella sua relazione di cui si è tanto parlato aveva davvero ragione. Il rifiuto così com'è esce dalla discarica di Bello Lampo non è idoneo per essere trasferito altrove. In tutte le città d'Europa e del mondo ormai si realizzano impianti che fanno riferimento alle nuove tecnologie impianti che ovviamente non devono essere inquinanti, impianti che devono avere a cuore la salvaguardia della popolazione progetti di ecosostenibilità capaci però di liberarci da questo sistema di discariche a cielo aperto capaci di liberarci da queste vere e proprie bombe ecologiche quali sono diventate le discariche in testa quella di Bello Lampo Bello Lampo è ormai divenuto un sito assolutamente impraticabile, le discariche si rifiutano persino di accogliere i rifiuti che arrivano da quella discarica. Orlando va in commissione antimafia ma mi sembra che per denunciare le illegittimità che riguardano i privati ma mi sembra che proprio nelle discariche private a Palermo si incomincia ad andare negli ultimi anni della sindacatura Orlando quindi Orlando dica effettivamente palesi queste sue denunce dicendoci tutto quello di cui è al corrente anch'io chiedo di essere a questo punto convocato in commissione antimafia per dar voce a tutti quei comitati cittadini che stanno nascendo in tutta la provincia a partire dai comuni limitrofi all'area di Bello Lampo che dichiarano di non voler più vivere in quella condizione